Buongiorno amiche e buongiorno amici, questa è una chiacchiera breve. Vediamo se riesco a mantenere questa cosa, una chiacchiera breve e una chiacchiera meno breve, una chiacchiera approfondita. Allora, cosa vediamo qua? Vediamo la scheda che viene abbinata, la ricetta che viene abbinata, le istruzioni che vengono abbinate ai vari kit di tintura naturale che possiamo acquistare con un filato abbinato su Terre Blu, sul sito Terre Blu. Eccolo qua. Mi sposto qui. Questa mattina ho chiacchierato nella chiacchiera lunga di tante cose, ho chiacchierato di tintura, ho chiacchierato di filature, di tipi di torsione, insomma ho chiacchierato un po'. E l'argomento, ecco, diciamo la presentazione, l'inizio di queste chiacchiere con i prodotti che ho scelto dalla proposta Terre Blu, filati predisposti per la tintura, eccolo qua, abbiamo il lino. Questa è una matassa di lino naturale predisposto alla tintura naturale e non utilizzate altre tre tecniche, seguite la vostra esperienza, seguite le vostre ricette, utilizzate i vostri coloranti. È raro, troviamo in rete dei filati anche naturali, ma dobbiamo spesso rilavarceli, dobbiamo prepararceli con il lavaggio, e poi vabbè anche in questo caso i vari mordenzanti, ma ogni ricetta dà le istruzioni che servono. Ho trovato alcune lacune, ad esempio, su quella scheda, abbiamo parlato con la signora Paola che ne è responsabile e quindi vi dirò anche che cosa magari può creare un attimo di confusione rispetto alla scritta e poi a quanto viene scritto e quanto poi troviamo in questo caso di la descrizione della scheda. Ora vi faccio vedere, eccolo qua, questa è la scheda, è la ricetta, il contenuto non è solo una matassa di lana naturale che in questo caso è un bellissimo filato cicciottino a due capi proveniente dall'Argentina, da sud dell'Argentina. Non c'è solo la bustina di indaco, ma ci sono anche le altre due sostanze necessarie a questo tentativo per quel che mi riguarda, perché ho tanto, ecco, non tingo, poi l'ho fatto secoli fa, tintura botanica a casa, l'ho fatta solo poi con robbia e cociniglia. Ecco, invece abbiamo quanto serve di chimico, ma mancano gli altri prodotti, gli altri attrezzi, bisogna approvvigionarsi di quello che serve. Eccolo qua, oh, uh, aspettate, eh, ecco qui, oh. Nella confezione troviamo una matassa di filato da un etto, una bustina di indaco, 10 grammi, ma in realtà i 30 grammi di fruttoso e i 20 grammi di calcio idrata fanno già parte del kit che è in questa busta di carta cucita, eccolo qua, carin, carinetto, eccolo qua, l'indachetto. Allora, scusate il mal di male, eh, ho il cellulare in mano che ce l'ho anche in ricarica. Ho chiesto un'informazione anche come va smaltita questa cosa, il residuo della tintura. Ah, la signoretta, aiuto, quando abbiamo preparato le schede, le normative randiverse, mi sapranno dire se bisogna eseguire uno smaltimento particolare o meno. Magari nella mail mi è già arrivata l'indicazione, eh. Quindi sul sito Terre Blu troviamo, come potete vedere lì, troviamo i kit, gli ausiliari di tintura sono tutti quegli ingredienti chimici necessari, li troviamo non in dosi così da test, ma li troviamo nei dosaggi, insomma, abbastanza abbondanti. C'è un bel manuale, che non vedo l'ora di acquistarmi, me lo sto scurda, e abbiamo varie nozioni, abbiamo filati lana per tintura e lino e cotone per tintura, predisposti già in matasse legate in tre punti, se volete essere più sicuri legatela in quattro, la matassa, lasca, ma sicura, lasca perché la legatura può lasciare dei segni sulla matassa, andiamo a eseguire una tintura di serva, nostro malgrado. Ecco, ho scelto il lino, Perché lino ha delle caratteristiche talmente particolari che ci vuole della sfrontatezza, diciamo, per spacciarne di bugiardi, e allora come mai questa collezione di filati che ho scelto? Perché? Perché farà parte del patrimonio del mio ambulatorio, di questo laboratorio anche itinerante, molte persone non conoscono le fibre in purezza, non sanno cosa vuol dire preparare i filati alla tintura, non hanno mai toccato fili naturali non tinti, e ne hanno visti raramente di ben tinti, e quindi cosa si trova qua? Abbiamo sia i filati tinti magistralmente, ho un assaggio, ho un po' di matasse, non ce l'ho provenienti da tutti i laboratori meravigliosi del mondo, ho anche alcuni prodotti tinti male, rovinati con botte di calore, perché bisogna conoscerli, e poi nella chiacchiera lunga do alcuni consigli al riguardo. Quindi ci vediamo, perché mica l'ho finita qua col lino, perché adesso poi vi farò vedere del lino tinto bene, vi farò vedere del lino non tinto e non sbiancato, in questo caso è stato sbiancato per avere un colore di base, ma bisogna sbiancare per forza il lino per tingerlo? No, è che avrete un supporto diverso, e quindi sarà da vedere come rende una tintura su un lino non sbiancato, prima o poi faremo anche quegli esperimenti. Adesso vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì, vi lascio, non vi abbandono, qui, vado a fare altre cose, qua vicino abbiamo, guardate, un kid silk tinto botanicamente, magistralmente, e qui abbiamo un lino spacciato tale, che c'è poco da fare, è oggettivo, se dal lino si svolge, dal filato si svolge qualcosa che si manifesta, come si manifesta, già, aneghesemo. Va bene, adesso vi auguro buon tutto, vado, vado, vado a fare le mie cosine, vado a portare fuori la minuscola, ciao! È bellissimo sto lino, il lino croccante, il lino luminoso, il lino egroscopico, il lino efresco, il lino, il lino veritas!